A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Una visita in gran segreto, privata, senza preannunci particolari. Ieri è arrivato in Abruzzo Papa Francesco. Bergoglio ha fatto visita al convento francescano di Via dei Cappuccini a Poggio Cinolfo a Carsoli, il convento che ospita le suore riparatrici del volto santo del nostro Signore Gesù Cristo. Papa Francesco è arrivato alle 10. Nessuno nella piccola frazione sapeva nulla. Tantomeno erano state avvisate le autorità del territorio. Alle 11. Il Papa ha celebrato una messa con il Vescovo di Rieti, Monsignore Domenico Pompili, suo compagno di studi e quattro suore. Ha pranzato con il Vescovo e alle 16. È andato via. L'incontro è stato ottenuto riservato e privato. La visita in Abruzzo di Papa Francesco ha coinciso poi con il suo ritorno a Rieti. Il Papa, riporta Radio Vaticano, è stato in visita privata nella provincia di Rieti. Francesco ha visitato il convento di San Francesco a Carsoli, dalle suore riparatrici del santo volto del nostro Signore Gesù Cristo. E ancora il monastero di Santa Filippa Marerin, Borgo San Pietro di Petrella, salto dove si trovano le suore francescane. Il pontefice è stato accolto dal Vescovo di Rieti, Monsignore Domenico Pompili. Questo quanto ha riportato la Radio Vaticana. Cambiamo argomento. Ammonterebbe a quasi 118 milioni di euro la somma stanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera del 28 luglio scorso, per gli eventi calamitosi che si sono verificati in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo nel novembre-dicembre 2013 e nel febbraio e marzo 2015. Per il Presidente della Commissione di Vigilanza e Consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo la somma si riferisce non solo all'Abruzzo ma anche ad altre regioni italiane colpite dal maltempo. Una multa di 8 milioni di euro dal Governo per gli scarsi ricavi e i troppi costi del sistema dei trasporti pubblici regionali e la notizia è arrivata a un giorno dall'approvazione in Commissione della Legge regionale di riforma del sistema pubblico dei trasporti. Una legge che porta la firma del consigliere delegato Camillo D'Alessandro e che approda in Consiglio regionale dove dovrà passare tra il fuoco incrociato delle opposizioni. La proposta, nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe introdurre delle agevolazioni. Per esempio ci sarebbe un milione di euro per esentare dal pagamento degli abbonamenti i ragazzi con reddito familiare entro i 15.000 euro. Poi mezzo milione per abbattere del 50% il costo del trasporto pubblico per gli inoccupati e disoccupati che partecipano a progetti di formazione, riqualificazione e inserimento nel mondo del lavoro. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata distintamente avvertita al sud dell'Abruzzo e lungo il litorale Vastese. L'epicentro è stato localizzato in Molise, tra Larino e Casa Calenda. La scossa si è verificata alle 21.52 di ieri. Non si segnalano danni. Scade il divieto temporaneo di balneazione legato al cortocircuito dell'impianto fognario e il sindaco di Pescara riapre il mare a pescaresi e turisti, ma rimangono i dubbi sulla quantità di batteri fecali presenti nelle acque. L'associazione Pescara Mi Piace pubblica i video dello sversamento delle fogne dopo il maltempo di sabato scorso. Sabato scorso abbiamo filmato l'entità e la durata degli sversamenti in corso dal troppo pieno posto nell'area della Madonnina direttamente nel fiume, spiega Armando Foschi, che è uno dei membri dell'associazione. Un evento, dice, di proporzioni enormi e abbiamo serie difficoltà a credere che quelle acque reflue non depurate abbiano esaurito i propri effetti inquinanti in appena 48 ore. Un nuovo depuratore e misure immediate per risolvere il problema dell'inquinamento del fiume Pescara e del mare dovuto alle acque reflue. Ieri si è tenuta una riunione tecnica che ha coinvolto il comune di Pescara e la regione, oltre agli enti competenti in materia per trovare soluzioni a breve e lungo termine. C'era il presidente D'Alfonso. Ci vorranno almeno due anni per realizzare un nuovo depuratore che servirà ad evitare problemi di sovraccarico e conseguenti sversamenti di liquame, ha detto il vice sindaco di Pescara del Vecchio. Nel frattempo si lavorerà perché i reflui di San Giovanni Tiatino vengano deviati a San Martino nella Marruccina, si lavorerà per una vasca di troppo pieno presso l'impianto di sollevamento della Madonnina e si provvederà a collettare le infrastrutture del sistema idrico di Pescara Nord all'impianto ex Considan di Monte Silvano. Oggi è martedì 10 agosto e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Massimiliano De Luca. E con questo siamo giunti alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno fino a tutto il pomeriggio e poco nuvoloso in serata con temperature da 23 a 28 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.